Massimo Ingrao, titolare di un bar, le vostre attività hanno già iniziato ad operare attraverso la vendita d'asporto però dovete aspettare ancora quasi un mese fino al primo giugno per poter ricevere all'interno i clienti e possano stazionare all'interno del bar. Questo quanto vi penalizza? Allora diciamo che la mia attività al momento è ancora chiusa, facciamo solo servizio a domicilio e a riguardo da oggi si può fare l'asporto, alcune attività sono aperte ma non so fino a che punto vale la vena visto i costi di gestione di un'attività. Voi avete deciso di fare solo il servizio a domicilio e non l'asporto? Sì abbiamo deciso di fare il servizio a domicilio appunto perché i costi sono elevati di gestione poi questa normativa che ci obbliga ad aprire regolarmente forse il primo giugno, scusate e il primo giugno è quanto lontano visto le spese che abbiamo sostenuto, affitti e la cosa che è l'ambiente ancora più grave è per i nostri dipendenti che ancora non è arrivata la cassa integrazione i nostri dipendenti hanno famiglia, hanno figli da sfamare, è una situazione un po' di disagio poi l'economia già si vede, dico sciacca è morta. C'è qualcosa a vostro parere che si può fare anche a livello locale? Ne abbiamo parlato stamattina con il sindaco, già si è proceduto alla sospensione dei tributi fino a maggio ma si stanno anche valutando altre possibilità e si attendono i risultati di questo lavoro e di questo studio che è in corso già nelle prossime ore. Qual è il vostro suggerimento? Niente, che suggerimento dobbiamo dare? L'unica cosa che possono fare per quanto riguarda il suolo pubblico è allargare gli spazi e non fare pagare il suolo pubblico e poi cercare di contenere noi il virus giustamente con la salute al primo posto, però cosa può fare il sindaco? Non so cosa può fare. Tommaso Spuches è titolare di un negozio di abbigliamento sportivo, voi potrete aprire il 18 maggio come valutate l'attuale momento e quali sono le proposte che avanzate? Allora, intanto io dico che l'apertura del 18 è un'apertura un po' troppo lontana e secondo me era giusto e corretto aprire anche prima ovviamente con le dovute cautele, con fare entrare le persone uno per volta con i vari dispositivi per la pandemia, però è una data un po' troppo lontana. Quello che mi preme tantissimo è che c'è bisogno di un intervento immediato, un intervento immediato sia da parte delle amministrazioni comunali che ovviamente ci amministrano, che in questo momento ci sembrano un po' assenti. Due, il governo centrale. Interventi immediati sono interventi per far sì di tamponare gli affitti. Ricordiamo che non veniamo da una stagione autunno-inverno felicissima quindi gennaio, febbraio, marzo, aprile, siamo maggio e noi, dico tutti, attività commerciali partite IVA, ristoranti, pizzerie, bar e così via, hanno uscito soldi di tasca per pagare gli affitti per non parlare poi delle altre bollette, Enel, luce, telefono. Ricordiamo anche un'altra cosa che le bollette arrivano sia per quanto riguarda le attività commerciali sia per quanto riguarda la propria residenza. Quindi abbiamo bisogno immediatamente di interventi immediati.